E' stato fermo Oddio lì rampa tanto Come arriva qua? Oddio sei diventato tronchetta come lui Non mi trovo tappi e non credo Ma non mi sa che costa Casa un po' che mi sembra un po' un gol No, sono sempre in seconda per quello Non mi sento rischio Oh là, sono andate E' guile carica Escrivete circa da capa Grazie a tutti 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 Grazie a tutti